E' iniziata ieri la marcia di avvicinamento alle semifinali per la Scandone Avellino, subito doppia seduta di allenamenti al Palà del Mauro per gli Omni di Coccio Sacripanti, lavoro che proseguirà fino a giovedì mattina per poi volare destinazione Venezia. Prime due gare della serie in programma al Palà Taliercio con la Scandone che può finalmente gioire per il ritorno a pieno regime di tutti gli effettivi. E' senza dubbio questa la nota positiva in casa Biancoverde con Coccio Sacripanti che può lavorare con il gruppo al completo, questione infortuni finalmente messa da parte senza dimenticare la posizione di Ragland che nei quarti è stato costretto a sobbarcarsi i viaggi intercontinentali per essere vicino alla sua famiglia e alla Scandone. Giorni importanti questi per preparare le semifinali con la Scandone che ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Battere ed imporsi in maniera netta e perentoria sul Reggio Emilia con un secco 3-0 non era certamente nelle previsioni di una squadra che ha dovuto subire diversi ostacoli ed invece Avellino ha reagito nel miglior modo possibile con carattere e determinazione confermando tutti i dati tecnici importanti che già si erano visti durante la stagione regolare ed allora con lo spirito di voler continuare a sorprendere che la Scandone si prepara a queste semifinali contro una Venezia che è stata quest'anno l'autentica bestia nera. Quattro K.O. tra campionato e Champions League sconfitte però tutte maturate nei secondi finali ed allora Avellino è pronta a vendicarsi cercandosi da subito di ribaltare il fattore campo. Nel frattempo nella mia interpino grande gioia e soddisfazione ieri per aver visto trionfare neorega l'ex James Nannali ancora particolarmente legato alla Scandone Avellino. L'NVP dello scorso campionato si è giudicato il prestigioso trofeo con i turchi del Fenerbahce e chissà che ora non possa far ritorno in Italia da tifoso bianco-verde per trascinare emotivamente Avellino ai playoff Scudetto.